Siamo alla questione ottava e nella questione ottava valutiamo se Dio si trova in tutte le cose, se Dio sia dappertutto. Oggi prenderemo in considerazione questi primi due articoli, quindi una riflessione sul rapporto della presenza di Dio nel mondo e se c'è questa presenza come si esplica. Ora, sembra che Dio non si trovi in tutte le cose e a questo proposito Tommaso riporta quattro argomenti. Ciò che è al di sopra di tutte le cose, come è Dio, non può essere in esse. Abbiamo già dimostrato che Dio si trova al di sopra di tutti i generi. Infatti anche nella Sacra Scrittura c'è scritto, elevato sopra tutte le genti è il Signore. Vediamo subito la risposta. Dio è sopra tutte le cose per l'eccellenza della sua natura. Un'eccellenza che è definita nella sua perfezione. L'abbiamo già detto tante volte, un'essenza che implica l'esistenza. Ma di necessità, anche dentro di esse, in quanto causa l'essere di tutto, come si è detto sopra. Dio è causa dell'essere. Ogni altro essere non esiste di per sé, ma esiste in quanto partecipa dell'essere divino. Perciò, Dio è causa efficiente di questo mondo, è causa efficiente di ogni essere, in questo senso. Noi intendiamo che Dio si trova in tutte le cose. Argomentazione seconda. Ciò che è in un altro è contenuto da esso. Dell'acqua che io verso in un secchio, beh, si trova in un altro. È contenuto dal secchio. Sennò l'acqua si espanderebbe ovunque. Ora, Dio non è contenuto dalle cose, ma piuttosto Dio contiene le cose. Sant'Agostino, infatti, scrive Tutte le cose sono in lui, piuttosto che egli in qualche luogo. È evidente la risposta, no? Ciò che è in un altro è contenuto da esso. Insomma, è evidente che stiamo parlando di corpi. Dio abbiamo già dimostrato che non è potenza alcuna, ma è atto. Vediamo cosa dice Tommaso. Dio è nelle cose come contenente le cose. Tuttavia, per una certa analogia con le cose corporali, si dice che tutte le cose sono in Dio, in quanto che Dio le contiene. Allora, Dio, proprio perché, e questo è un argomento importante, che sarà sviluppato nell'articolo successivo, non è soggetto allo spazio e al tempo. Quindi, affermare che Dio si trova in tutte le cose non vuol dire che sia limitato dalle cose, perché a questo punto soggiacerebbe allo spazio e al tempo. Poi, nel linguaggio analogico, si dice anche che Dio si trova in tutte le cose, ma non nel senso che è contenuto e limitato dalle cose, ma nel senso che è Lui che tiene in vita l'essere delle cose. Quindi, anche a questo proposito, molto spesso i fraintendimenti si hanno perché non ci si intende sui vocaboli. Penso che sia chiaro. Dio, per analogia, diciamo che si trova in ogni cosa, ma in realtà è Lui che contiene ogni cosa, ma anche questo contenere, attenzione, non in senso spaziale, ma come causa è efficiente. Vediamo di approfondire ancora di più questo argomento. Quanto più potente è un agente, a tanto maggior distanza arriva la sua azione. Pensate, purtroppo, questi propellenti nella Seconda Guerra Mondiale, Hitler aveva addirittura fatto costruire un cannone enorme che dalla Francia, dalle terre francesi, poteva bombardare l'Inghilterra. Oggi abbiamo una missilistica, quanto più potente è un agente che può portare delle atomiche lontane decine di migliaia di chilometri. Però, anche questo ragionamento non funziona con Dio, perché è evidente che se l'agente è potentissimo sarà lontanissimo dal suo effetto. Ora, Dio è un agente onnipotente, dunque la sua azione può giungere anche alle cose che distano da Lui e non è necessario che sia in tutte le cose. Dio è la potenza per essenza, quindi può essere lontanissimo e quindi non è giusto dire che Dio è in ogni cosa, perché ne è causa efficiente. Vediamo la risposta. appartiene alla somma potenza di Dio agire in tutti gli esseri immediatamente, quindi nulla è distante da Dio. Siamo di nuovo, però, attenzione al problema di fondo che viene poi evidenziato dopo. qui noi non possiamo concepire nulla che non sia definito dallo spazio e del tempo. Dio non è condizionato dallo spazio. Quindi nulla è distante da Dio. Proprio perché l'azione di Dio, che è quella di mantenere, non soltanto di portare all'essere le essenze, ma di mantenerle nell'essere, fa sì che Dio non sia distante dall'essere, ma ne sia vicinissimo con la sua potenza. Tuttavia si dice che alcune cose distano da Dio per una dissomiglianza di natura di grazia, anche se è vero. Nel momento stesso in cui noi concepiamo dei personaggi diabolici da Stalin a Hitler a Mao, come possiamo definirli simili a Dio? Vedremo poi in che misura. È evidente che sono lontani da Dio nella loro bestialità. Nel momento in cui sono venuti meno, nel modo, nella forma, nell'ordine, nella specie, a realizzare adeguatamente quell'essenza che è stata portata all'essere attraverso un atto creativo. Ma di somiglianza anche lì per modo di parlare, perché finché si trovano all'essere, finché esistono, sono mantenuti all'essere da Dio. causa efficiente. Quattro. I demoni sono delle cose e tuttavia Dio non è in essi, perché come dice Paolo non vi è niente di comune tra la luce e le tenebre, ma anche in riferimento a questa osservazione vale quello che ho testedetto. nei demoni c'è da distinguere la natura che è da Dio, l'essere è stato Dio, è stato dato ai demoni da Dio e la deformità della colpa che non è da Dio. ho ricevuto proprio l'altro giorno una riflessione che è importante. Come si fa pensare che l'essere delle creature, quelle che ogni giorno commettono delle cose di una gravità enorme, abissale, sia un essere che arriva da Dio. ma l'essere arriva da Dio ma è il singolo che attraverso la sua libertà male usata che è una componente intrinseca dell'essere deforma la sua essenza con la colpa. Quindi a questo punto Dio si trova in senso assoluto in quelle cose che indicano natura non deformate, non nature deformate dal peccato e dalla colpa. vediamo il set contra una cosa e questo è evidentemente il pensiero che sostiene quello di Tommaso una cosa è dove opera ora Dio opera in tutte le cose secondo il detto della scrittura 26.12 Isaia o Signore tutte le opere nostre hai operato in noi dunque Dio è in tutte le cose vediamo un chiarimento ulteriore Dio è in tutte le cose non c'ha non c'ha come parte perché non è corporeo né come parte di loro essenza o come una loro qualità accidentale ma abbiamo detto ma abbiamo detto come causa efficiente ora essendo Dio l'essere stesso per essenza bisogna che l'essere creato sia effetto proprio di lui altrimenti la creatura da chi avrebbe assunto l'essere e questo effetto Dio lo causa nelle cose non soltanto quando cominciano ad esistere ma fin tanto che perdurano nell'essere come la luce bellissima questa similitudine è causata nell'aria dal sole finché l'aria rimane illuminata quindi è il sole che illumina l'aria e questo raggio di sole permane fino a che questo raggio non è raccolto di nuovo dalla propria origine il raggio quindi dell'essere permane nell'aria permane nel mondo fino a quando Dio lo mantiene passiamo perciò all'articolo 2 videitur sembra che Dio non sia dappertutto abbiamo tre argomentazioni essere dappertutto significa essere in ogni luogo attenzione di nuovo il luogo il tempo Dio non è definito da luogo e da tempo ora essere in ogni luogo non conviene a Dio al quale non conviene essere in alcun luogo perché come dice Boezio le cose incorpore non sono localizzate vediamo la risposta gli esseri incorporei non sono nel luogo per un contatto di dimensioni come i corpi ma per un contatto dinamico o applicazione della loro attività beh Dio abbiamo detto ha un contatto dinamico deve mantenere all'essere gli enti e quindi si trovi in ogni luogo due un'unità indivisibile di azione di movimento l'istante ecco questo è l'istante tac siamo già all'istante successivo e adesso al successivo adesso al successivo adesso al successivo un istante quello di dieci secondi fa non c'è più adesso non può essere di più tempi l'istante è passato il tempo non si recupera debba evitate vite di Seneca la nostra vita è fatta di una successione di istanti ma l'istante passato un minuto fa non si recupera più dunque neppure un'unità indivisibile nel genere delle cose permanenti un punto può essere in tutti i luoghi prima abbiamo considerato il tempo adesso consideriamo lo spazio un punto qui non può essere là un punto su non può essere giù ora l'essere divino non è successivo come la serie dei punti o la serie degli istanti ma permanente dunque Dio non è in più luoghi e così non è dappertutto la risposta è c'è un altro indivisibile oltre al punto e all'istante che è fuori di ogni genere di continuità temporale o spaziale è l'essere spirituale quello cioè che non soggiace alla continuità temporale e spaziale quante volte l'ho detto quante volte mi sono rifatto a Kant quante volte ho spiegato di fronte a chi mi dice ma come può essere come può esistere un Dio prima del Big Bang ma per Dio non esiste il prima e il dopo altrimenti il tempo condizionerebbe Dio chi concepisce un Dio e vuole credere in Dio deve vedere un Dio che crea lo spazio e il tempo ma non che è definito e determinato dallo spazio e dal tempo e solo in tal modo le sostanze incorporee come Dio l'angelo e l'anima si dicono indivisibili tale indivisibile dunque non si applica al continuo come qualcosa che gli appartenga quindi a seconda che la sua potenza attiva si può estendere a una cosa o a molte a una piccola o a una grande si dice che è in uno o più luoghi è evidente questa non è la caratteristica dell'angelo o dell'anima ma è la caratteristica di Dio che è causa efficiente di ogni essere perciò in riferimento a questa unità della sostanza incorporea indivisibile in riferimento alla sua potenza attiva che porta e mantiene all'essere uniente noi diciamo che Dio è in ogni luogo andiamo perciò all'argomento tre so che è tutto in un posto non ha niente fuori di lì ora se Dio è in qualche luogo vi è tutto perché non ha parti dunque niente di lui è fuori da quel posto è evidente che se io ma io sono un essere umano fatto di corpo mi trovo qui tutto il mio corpo è qua non si può trovare là ma torniamo di nuovo a ragionare in una prospettiva di corpi il corpo non appartiene a Dio infatti troviamo ciò che quantativamente si trova per intero in un luogo non può certo essere fuori da tale luogo la totalità di essenza invece non è commisurata alla totalità del luogo quindi non è per nulla necessario che quanto è interamente un dato luogo per totalità di essenza non sia in alcun modo fuori di esso e a questo proposito Tommaso fa l'esempio della bianchezza la bianchezza è un'essenza il fatto che la bianchezza sia un'essenza e appartenga a quel corpo quel corpo è bianco che appartenga alla neve che appartenga alla facciata di quella casa non vuol dire che non possa trovarsi in luoghi differenti stiamo parlando di essenza perciò come l'anima è tutta in ciascuna parte del corpo così Dio è tutto in tutti i singoli enti è evidente che l'anima non essendo Dio non può essere in ogni realtà in ogni ente esistente ma Dio che è quell'essenza che implica l'esistenza che mantiene all'essere o niente si trova ovunque e infatti vediamo nel rispondeo Dio è in ogni luogo ossia dappertutto primariamente come è in tutte le cose in quanto da loro l'essere poi dalla potenza attiva è l'operazione così è in ogni luogo in quanto da adesso l'essere anche il luogo ha bisogno dell'essere lo spazio è la capacità locativa è la potenzialità di accogliere gli enti Dio riempie ogni luogo non però come lo riempie un corpo e l'esempio della bianchezza penso che sia l'esempio più azzeccato l'esempio l'esempio